Probabilmente anche sentendo l'intervento che ci ha preceduto, credo una grande differenza che riguarda noi rispetto alla maggior parte delle persone che ci sono qui e quella che poi è diventata Cassiopea era per noi totalmente terri, non c'erano altre maternative. Pensando in macchina mentre venivo qui ho detto che devo fare un intervento, Terry mi ha chiesto questa cosa, che dire? E alla fine ho detto, ma sì, probabilmente la cosa che ho proprio piacere di dire, non vorrei neanche troppo raccontare degli aneddoti che ci legano, che mi hanno dato volita al percorso, ma ho pensato che forse che proprio questa cosa ho piacere di diretterevi in questo momento, perché è una cosa che nel tempo ci siamo dette anche molte volte in modo diverso, cioè in altro modo e che però in questo modo non ce lo siamo mai dette, è che anche se oggi con tutte le distanze del caso, umane, professionali, credo che la cosa che io ricordo fortemente, che rappresenta a me stessa in modo ugualmente forte, è quello che prima di tutto mi ha insegnato Terry, che viene prima della formazione stessa, credo. Vorrei dirlo questo senza scadere nella retorica, però per me è un fatto, ed è quello che significa fare questa professione con passione. Terry mi ha insegnato anche questa cosa, e Terry mi ha insegnato la passione per questo mestiere e il rigore per fare questo, e credo che senza passione e credo che senza passione non sarei la persona che sono in questo momento e la parecciamo molto soddisfatta. E quindi volevo farti un ringraziamento tanto a tutti per questo.